Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video e oggi faremo un minuscolo spacchettamento ecco qui la prima carta già provata da Piglo perché è la seconda volta che registro perché non ce l'ho fatta e ora ho preso le forbici per farlo bene, è entrato a Gix, 180 HP, ora si apre e si guarda vediamo se stavolta ci riesco oh perfetto, aperto andiamo un po' mamma eccolo qua pure impacchettato eccolo qua il nostro Drampa GX poi ci sono altre cartine, altre carte che ora farò vedere che ora vediamo cosa sono che sono rare guarda com'è bello Drampa GX con giusta lama che toglie 20, furore 80 più se i tuoi Pokémon in panchina hanno dei segnalini danno questo attacco infine 70 danni in più buono, buono, 170 gran carosello GX la super mossa furore richiede 3 energie normale è giusta lama una energia normale eccolo qua, guardate com'è bello questo è Drampa poi vediamo le carte che cosa ci aspettano le carte bene, iniziamo abbiamo un Zubat Pokémon base 40 HP con Sanguisuga e toglie 10 e Supersonico allora chissà perché di tipo erba e non buio non si sa però vedete è tipo una carta vecchia andiamo avanti abbiamo Ekans che si evolve in Arbok credo ha sputa veleno e avvolgi botta che toglie 20 40 HP bello anche questo carino poi abbiamo Sheldr 30 HP e con Supersonico anche lui che c'aveva Supersonico eh c'aveva Zubat è nascosto nella conchiglia quindi non ha mosse che fanno male praticamente poi abbiamo questo abbiamo Oddish 50 HP Pokémon base con spore parallelizzanti che toglie 10 e germoglio a 50 HP bellino anche questo è in 3D dentro vedete questo qua poi e l'ultima carta è Likitang Pokémon base 90 HP lingua avvolgente 10 e Supersonico anche lui carino questo carino con questa lingua che manda carino anche questo ma la carta più bella ovviamente Drampagix che a me bettola tolgo da qui dentro così si si vede meglio a me piace molto guardate com'è bello tolto dalla cosa è bellissimo Drampa bellissimo qui in altri spero che il piccolo spacchettamento vi sia piaciuto e quindi grazie e alla prossima con Alex ciao ciao ciao